Dice la Sacra Scrittura, i ragionamenti tortuosi allontanano da Dio. Dio conosce il perché delle cose in quanto tutto è stato creato da Lui. Questo mondo non è un caso e da suo tempo conosceremo le risposte di tutte le nostre domande. Per ora è inutile lambiccarci il cervello su questioni che non riusciamo a capire con la sola nostra ragione. Chiediamo a Dio il dono della fede invece. Quando terminerà questa vita terrena non ci sarà più bisogno della fede e neanche della speranza perché rimarrà solo la carità in quanto vedremo Dio faccia a faccia così come Egli è. Dio è amore. Ma è necessario credere nel suo figlio Gesù Cristo, il quale è il Logos, il senso del tutto. È per questo che si è incarnato. Ha patito, è morto, ma poi è risorto. Ha preparato la via della salvezza a coloro che umilmente credono nel perdono dei peccati e nella risurrezione della carne in Lui.